L'Avellino ha perso il derby con la Salernitana per il ritiro estivo, infatti è proprio la società Granata ad essersi accaparrata alla sede di Roccaporena. Questa mattina, intervistato dal sito barsport.com, il signor Di Curzio, proprietario della Di Curzio Incoming, che ha condotto le trattative tra lui e la Salernitana, ha fugato ogni dubbio, dichiarando che sarà la società di Lotito e Mezzaroma, a svolgere la preparazione presso la struttura di Roccaporena dal 15 luglio fino alla fine del mese. Sfuma dunque la possibilità di vedere alla società irpina il ritiro nelle medesime località, anche perché nei dintorni alloggerà la San Benedettese, una località, quella ombra, che sembra essere una meta ambita dai club calcistici per svolgere la preparazione estiva. È dunque la Salernitana a vincere il primo derby dell'anno, anche perché la società OS Avellino sembra essere più concentrata su vicende societarie ed ha, quasi perso di vista, uno degli obiettivi che Novellino aveva anticipatamente chiesto al soddializio biancoverde. L'assetto societario è sicuramente importante per il futuro, ma un ritiro estivo fatto con cura e nel luogo che voleva l'attuale tecnico sembra essere ugualmente importante e ancor più fondamentale se si pensa al fatto che il ritiro interessa il capitale più grande di una società di calcio, ovvero i calciatori.